Siamo con il neosindaco di Piedimonte Matese, il dottore Luigi Di Lorenzo, a cui va innanzitutto il nostro augurio. Sindaco, si aspettava questo risultato? Beh, le tensioni c'erano, il lavoro è stato abbastanza duro, siamo partiti forse in anticipo rispetto alle altre due liste, per cui ci credevamo e ci siamo riusciti. Quando ha capito che era in procinto del Vittoria? L'ultima settimana le sensazioni erano assolutamente positive, il riscontro era positivo, per cui ci credevamo dall'inizio, ci abbiamo creduto di più nell'ultima settimana e in effetti poi le conferme le abbiamo avute al momento della SPOI. Adesso da primo cittadino quale sarà il primo provvedimento? In questi giorni stiamo cercando di entrare tutti nella macchina e quindi le prime cose da fare sono il rinnovo delle posizioni apicali, che sono venute con l'insegnamento della nuova amministrazione e quindi dare l'ordinario a quello che è la macchina amministrativa e poi iniziare con la progettualità che ci siamo prefissi. Una nota dolente di questo periodo è sicuramente la Tari. In campagna elettorale la questione è stata affrontata, se ne è parlato. Lei come intende procedere? Cosa pensa che si possa fare? Stiamo cercando con i responsabili della ragioneria di verificare se è possibile quantomeno dilazionare i pagamenti, visto che la legge permette un dilazionamento fino a 5 rate e questo sarebbe un primo provvedimento per dare un piccolo segnale di aiuto e poi verificare dove, come intervenire, insomma come siamo detti in campagna elettorale. Oltre alla Tari, quale sarà un'altra priorità? Le altre priorità saranno sicuramente dare più attenzione al decoro della città in modo che il paese sia innanzitutto più vivibile, pronto per inserirsi nel contesto più ampio di rapporti con i paesi dell'ente matesino, insomma dell'ente matese, per dare una migliore fotografia alla città. La sua squadra ha sempre manifestato il desiderio di apertura al dialogo con i cittadini. Sarà così anche con la stampa? Assolutamente sì e partiremo sicuramente entro fine luglio con un primo consiglio comunale aperto dedicato più all'associazionismo, commercianti, per le associazioni che si occupano di spettacolo, turismo, per chiedere a loro, così come ci siamo prefissi in campagna elettorale, un appoggio per la parte programmatica, partire tutti insieme con la cittadinanza e le associazioni per poter progettare meglio il futuro del paese. Tornando alla sua squadra, una domanda secca, chi saranno gli assessori? Questo mi lasci, insomma abbiamo già un'idea, abbiamo ieri più o meno concluso il tutto, però ci riserviamo di dirlo tutti insieme alla stampa. Ma o almeno sulla base di quali competenze giungerà alla decisione? I principi sono competenze, disponibilità e in rapporto anche ovviamente a quanto possa il singolo assessore dedicare come tempi, quindi a ciascuno degli eletti abbiamo chiesto la disponibilità in termini di orario e di organizzarsi compatibilmente con la propria vita personale e con la propria professione, per cui questo è il primo step. E a pochi giorni dall'insediamento adesso cosa si sente di dire ai suoi concittadini? Che non ci si giudichi per i primi passi perché adesso abbiamo chiamato a raccolta quelli che sono gli amici e quelli che sono le persone più fidate che ci stanno consigliando. Adesso è la fase di ascolto e di verifica di quello che è lo stato di fatto della macchina comunale. L'approccio che io mi do, insomma, anche nella mia professione è quando entro in un nuovo contesto è ascoltare tutti i vertici e il singolo operatore, poi farsi un'idea e chiedere, ascoltare, capire quali sono le crescita anche nella singola gestione dello spiccio, insomma, e poi dopo verificare quelli che sono i cambiamenti da portare se sono possibili. Sindaco, noi la ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo un buon e profigo lavoro. Grazie a voi, grazie, grazie. E da Piedimonte Matese è tutto.